Banca Popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Lunedì 18 novembre, Santo Odone di Cluny, è il 322esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 43 al termine, il sole sorge alle 7.14 e tramonta alle 16.41, la luna si leva alle 17.29 e tramonta alle 7.49. A causa dell'indolenza dimostrata nell'aver lasciato cadere in gravissimo stato i suoi lidi, il Senato toglie ai cittadini di Chioggia la manutenzione dei lidi stessi e la trasferisce al magistrato delle acque. Alla comunità Chioggiotta comunque viene imposto un tributo annuo di 2.000 Ducati. Le previsioni per domani, molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, temperature senza notevoli variazioni, venti deboli o moderati a tratti forti in alta quota dai quadranti orientali. Grazie.